Paura questa notte intorno alle tre nei pressi di via Dante e alle ieri dove sono state avviluppate dalle fiamme diverse auto. Fra queste una vecchia X5 potrebbe essere la causa scatenante. Sono in corso le indagini riaffidate ai carabinieri della locale stazione, gli ordini del maggiore Eric Fasolino. Carbonizzate una Clio, una Fiat Tune e una Mercedes, oltre a danni per altri veicoli in corso di identificazione. Sul porso per sedare le fiamme i vigili del fuoco di Eboli, che hanno lavorato tutta la notte per eliminare ogni pericolo, specie per i residenti che hanno chiuso le finestre per evitare di respirare fumo nero. Secondo le prime indiscrezioni l'incendio non sarebbe doloso. Sono in corso le verifiche tra i carabinieri e i vigili del fuoco. Intanto su Facebook, sulla pagina di Sedi Battipaglia e il Vero, sono state postate foto e video con tantissimi commenti di persone preoccupate per i troppi incendi in città.